sono le infiltrazioni allora Cataldo partirei da te mentre da Federico mi aspetto anche un discorso mediatico mentre da Cataldo me lo aspetto legale credo ricolche le nostre curiosità su di loro Federico un grande esperto di comunicazione mi interessi anche quello intanto Fede ti ha tranquillizzato il presidente Marotta ieri Federico sì sì andava ribadita questa cosa di chi ha determinati valori e di conseguenza di chi non li ha per cui voglio dire mi sembra che oggi si sia dato ampio spazio mi sento più tranquillo ecco mi sembra che abbia tranquillizzato tutto l'ambiente sul fatto che possono rinfiltrarsi quanto vogliono ma noi insomma rimaniamo noi loro rimangono sempre così diciamo tutti noi di riflesso la società diciamo la società intesa non come calcistica in generale però sappiamo 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 dove alcuni valori sono custoditi ed è giusto che insomma qualcuno l'abbia ribadito in diretta caso chiuso Federico caso chiuso oppure ancora si può indagare sì direi insomma a un certo punto sì nel senso facciamo fare il suo corso alla giustizia tra l'altro ho letto anche che anche la procura federale la giustizia sportiva giustamente come ci hanno abituato si vogliono prendere i loro tempi per capire bene gravina gravina l'ha detto gravina ha chiesto cautela secondo me è giusto chiedere cautela insomma non è che adesso di colpo tu ti metti a insomma a cercare soluzioni affrettate su questo tipo di premi sono temi molto delicati sono state messe sotto scacco due società una che custodisce appunto dei valori che altri hanno perso per cui insomma non si scherza con queste cose non si scherza con i valori dell'Inter come non si scherza con la costituzione quindi cautela va bene non tutti coglieranno le ironie di Federico Sarica sulla cautela richiesta finalmente da gravina ma e poi Massimo Massimo fammi dire una cosa valori tra cui rientra anche l'educazione e la gentilezza per cui se qualcuno ti cerca al telefono tu rispondi questa mi sembra la dimostrazione ah cioè tu dici non c'è nessun niente di male nel parlare se mi hanno chiamato parlo ma no ma siamo siamo noi juventini così insensibili a tutto il resto così delle persone poco educate che se magari se ci cercano non rispondiamo se qualcuno ti cerca al telefono e ti chiede una mano tu rispondi e provi a dargliela poi voglio dire e se ti propongono una cena che fai Fede vai ma rifiuti ma se sei una persona per bene ci sei cioè ho cominciato e se ti chiedo qualche se ti chiedo qualche biglietto in più scusa Massimo se il tuo valore è l'universalità la fratellanza cioè non è che tagli i ponti con qualcuno perché non sai chi è rispondi al telefono e cerchi di fare il possibile ti metti a disposizione mi sembra insomma la dimostrazione l'ennesima dimostrazione di educazione di superiorità morale allora caro Cataldo qua scherziamo tu sei un garantista della prima ora molto molto così anche sul discorso penale mi interessa anche il tuo parere sullo sportivo ricordiamo che Cataldo Entrieri è un avvocato penalista e io lo dico sempre sul mio ramo che è l'amministrativo ripeto non in modo prestigioso come Cataldo ma quando poi mi chiedono di altre materie fatico sempre un po' perché se è vero che alcuni principi del diritto sono universali poi le singole materie sono specifiche però Cataldo si è occupato in questi anni spesso anche suo malgrado anche per aiutare noi di diritto sportivo e un po' come funziona ormai lo sa bene Cataldo la prima domanda è questa tu ce lo se facessi un quadro legale dimmi se lo faccio bene io parliamo più del caso Inter scusatemi parto da questo ci direi anche le differenze che hai colto se hai letto l'ordinanza non lo so perché l'Inter ha questa aggravante prevista l'Inter i tifosi non l'Inter l'Inter non è indagata nessuno è indagato lo diciamo come la Juve al tempo lo diciamo ancora una volta però c'è questa aggravante delle infiltrazioni insomma della criminalità organizzata il pauretamento mafioso esatto che il Milan non ha quindi anche il Milan è molto brutto pestaggi mille cose ci dirai dei parcheggi mi farai capire però dimmi una cosa Cataldo il sunto molto brutale e poi parola a te è dal punto di vista penale non si è collusi ma si è in qualche modo o parte l'esimo comunque al più non si è denunciato ma non è un reato però te lo dirò subito dal punto di vista sportivo a noi anni fa ci hanno fatto una capatanta con i non potevano sapere vai vai non ricordo però proprio partendo da quel precedente anche lì la Juventus fu considerata parte offesa fu sanzionato Andrea Agnelli che allora era presidente della Juve e fu sanzionato per aver violato il codice sportivo che vieta il contatto tra un tesserato e soggetti pregiudicati lui ebbe una condanna a un anno che fu poi cancellata giustamente a mio parere in appena non cancellata furidotta furidotta dirigenti di Milano ed Inter allora io specificerei questo è vero che ad alcuni imputati ed è questa la novità di questo tipo di processo perché non è la prima volta che si processano diciamo associazioni di Ultras ma è la prima volta che almeno io ricordi che viene contestata questa aggravante chiamiamola così di aver favorito un'associazione mafiosa ma questa aggravante viene contestata perché per la presenza risulta ancora imputato sebbene sia passato a miglior vita il signor Bellocco che viene indicato nel capo di imputazione come un esponente di un clan dell'Andrangheta calabresi quindi di essere stato un rappresentante degli interessi criminali di un clan del sud presso queste organizzazioni di tifosi e questo è un particolare estremamente inquietante che è corrotto di gravità di gravità in tutto per questo viene contestata questa aggravante mafiosa in buona sostanza siccome questo signor Bellocco ricavava proventi da questa attività di fiancheggiamento di questa associazione di Ultras e questi proventi lui riversava al suo clan in Calabria questo ha concretizzato questo tipo di aggravato ora cosa rischia l'Inter l'Inter come anche il Milan il Milan è un'associazione a delinquere semplice il Milan e Juventus sono considerate parti offese a mio parere giustamente a mio parere giustamente perché giuridicamente la figura del cosiddetto imprenditore complice dell'imprenditore colluso cioè dell'imprenditore dell'azienda che collabora con l'associazione criminale sia quando l'imprenditore o l'azienda diventa funzionale agli interessi criminali quando cioè favorisce l'accrescimento del potere e dei guadagni dell'associazione criminale nel caso dell'Inter noi abbiamo una società che non ricava a sua volta dei vantaggi da quest'opera diciamo così di contatto con un'associazione criminale non guadagna soldi non si arricchisce anzi deve fornire vantaggi e agevolazioni quindi sotto questo profilo non possiamo parlare certamente di una collusione dei due club avere il tifo scusami che tanto ti interrompo saluto Giuseppe Cruciani e ora subito dopo l'introduzione di Cataldo parola a te Cataldo scusami ti faccio solo una piccola interruzione avere il tifo a favore cioè il fatto che la Juve da 5-6 anni non abbia praticamente tifo organizzato con uno stadio silente spesso teatro polemiche scioperi il fatto che poi anche l'allenatore si adoperi per dire io lo voglio il tifo in finale quello non è anche però una sorta di come dire non so se è un vantaggio o no però sì ma non è sì oddio lì forse ti riferisci anche al discorso dei famosi biglietti l'episodio non è contestato nel capo di scusazione no 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 velocemente non è contestato è un episodio questo ragazzi la situazione diciamo è scivolosa è un po' opaca allora se dovessi fare un paragone se dovessi fare un paragone perché parliamo anche di mafia c'è questa evocazione della mafia ecco allora c'è stato un periodo nella storia di questo paese che si riteneva che si potesse convivere con determinati fenomeni criminali che c'erano si sopportavano e i galantuomini convivevano con le persone per male e un po' questo è il discorso che si fa nel mondo del calcio con certe associazioni di mafiosi attenzione l'ordinanza che io ho letto a stralci a bocconi che circolano su internet dovrebbero essere atti riservati ma circolano è scritta molto bene e il giudice che ha emesso il provvedimento a cautela ad un certo punto fa una riflessione dice guardate che per alcune associazioni di Ultras la violenza è un connotato è un brand che per loro costituisce non solo un biglietto da visita ma anche una merce da scambiare da offrire da utilizzare non solo dalle società di calcio si fa l'esempio di un altro personaggio dello spettacolo di una spedizione punitiva non mi interessa questo tipo di discorso quindi in buona sostanza li si dipinge come vere associazioni criminali che fanno dell'uso della violenza un brand un marchio un biglietto da visita quindi la cosa diventa molto importante e allora qui il problema è un problema se sia giusto certi tipi di atteggiamenti laschi la convivenza il frequentarsi l'invito a cena ecco sportivamente questo secondo me causerà delle conseguenze gravi per alcuni tesserati poi vedremo le prove se ci sono prove sufficienti ma secondo me questo comporterà delle sanzioni anche le scene dei giocatori dici le chiamate con i zaghi non c'è nulla io parlo di sportivo noi non auguriamo nulla a nessuno anche se là parliamo di deposizioni di relato cioè non è che c'è la prova diretta ci sono affermazioni ho visto questo ho visto quello quel tizio là mi ha avvertito che la polizia indaga che poi questo basti in sede penale non basterebbe perché sono possono essere panterie o millanterie magari in sede sportiva il tipo di prova è diverso guarda io concludo dicendo poi proprio perché parliamo di mafia che c'è un aspetto che non va sottovalutare il fatto che si sia aperto nei confronti di Intermila un procedimento di prevenzione è una cosa un po' particolare ve la riassumo in breve è un tipo di procedimento che può portare a quello che possiamo definire un'amministrazione controllata delle società a seconda della gravità di possibili infiltrazioni criminali in un'azienda in una società si può arrivare anche alla rimozione degli amministratori ma questo non è il caso oppure a una forma di controllo della magistratura sulla amministrazione dell'impresa o dell'azienda è stato fatto per imprese importanti come Albiero Martini quindi la magistratura al fine se ritiene che vi sia un pericolo di infiltrazioni qua una sorta di amministrazione controllata di supervisione sugli amministratori che restano a loro posto e questo forse potrebbe anche essere utile perché potrebbe servire a creare una barriera protettiva tra le società e certi imbarazzanti presenze di Ultras e certi imbarazzanti presenze di Ultras da cui forse in ogni caso conviene prendere le distanze perché noi diamo per scontato che ci sia un modo di vivere in tipo e forse non è così perché poi queste persone nei loro collo in cui dicono a me non me ne frega niente del tipo mettiamoci d'accordo spartiamoci il bottino è una logica che non è la logica del tipo è una logica di teoria criminale da cui è bene che le società prendano le distanze e forse questo tipo di procedura di prevenzione che cioè è una forma di controllo della magistratura può cominciare a stabilire e a proteggere le stesse società da contatti che rischiano di diventare imparazzanti e anche pericolosi allora tutto chiaro dal punto di vista legale quindi il tema è sportivo Cataldo prevede nulla dal punto di vista penale per l'Inter che non è indagata ripetiamo ancora una volta nessuno anzi è parte offesa ma lo sportivo dice mi aspetto invece qualche sanzione Giuseppe Cruciani il titolo del di questo video che faremo oggi di questa diretta me lo dai tu subito qual è il vero tema di questa vicenda Inter-Milan infiltrazioni ma guarda io non so adesso non so se riesco a darti un titolo subito oppure fra un po' ma la frase di Zanetti che è uscita fuori oggi su cui alcuni giornali titolano vedo qua il messaggero addirittura in prima pagina o altri è una frase chiaramente che va contestualizzata che è stata presa dalla non faremo lo stesso gioco che hanno fatto gli altri con diciamo con le accuse dei PM no perché quelle sono le accuse poi quando le persone verranno sentite poi magari riusciranno a spiegare perché altrimenti facciamo lo stesso gioco che è stato fatto dai giornali quando c'è stata l'inchiesta su Agnelli per cui non inchioderemo nessuno a meno io non ho intenzione di inchiodare nessuno a una frase o a un titolo eccetera fosse vero fosse vero ripeto fosse vero che Zanetti ha detto a uno dei capi ultrà la polizia vi monitora è chiaramente una frase che sul piano sportivo sul piano penale probabilmente come ha detto prima Cataldo probabilmente non è nulla sul piano sportivo è una roba interessante poi bisogna vedere cosa significa sul piano sportivo perché questo signore con cui parla Zanetti che è questo perdico che è uno dei capi ultrà non è che lì c'è un codice nello sport nella giustizia sportiva che ti impedisce di parlare con le persone cioè Zanetti può parlare con chi vuole cioè Zanetti teoricamente può parlare con chi vuole né questo tizio qua è riconosciuto non è che c'è un'associazione di tifosi dell'Inter per cui questo qua è riconosciuto come un capo ultrà e lo sanno tutti che è quello che comanda la curva nord dal punto di vista di gerarchia ci dicono i magistrati adesso che c'è una gerarchia militare nell'organizzazione dei traffici e del tifo soprattutto dei traffici economici che frutta milioni di euro all'anno e questo addirittura dice a un certo punto io ho fatto 265 puliti quest'anno sul calcio cioè 265 mila stiamo parlando di gente che campa grazie a queste cose con un misto di di terrore di intimidazione e di violenza esplicita per cui è una frase che sul piano sportivo a mio parere non esiste un regolamento che impedisce ma qua Cataldo può essere che impedisce a Zanetti di parlare con qualcuno cioè non credo che esista un regolamento purtroppo dico io purtroppo che impedisca a Zanetti di parlare con un tizio che si professa capo della curva e a cui dice guardate che la polizia vi sta monitorando dopo l'omicidio di quell'altro tizio di Boiocchi questo è quello che mi è venuto in mente oggi leggendo questa cosa su Zanetti ovviamente ce ne sono tante altre qual è il punto che viene fuori ragazzi tutti sapevano tutto la polizia queste cose qua le sapeva cioè la gestione criminale la gestione criminale la polizia gli investigatori i carabinieri la gestione criminale di chioschi parcheggi probabilmente biglietti eccetera è una cosa che la polizia sapeva qual è stato spesso qual è spesso l'atteggiamento della polizia lo faceva capire prima Cataldo nei confronti di queste persone qua era dire io li lascio fare li lascio fare perché in questo modo li controllo cioè in questo modo li controllo so che quelli là governano un pezzo di stadio e c'è questa sorta di pax quando questa sorta di tranquillità tra virgolette all'interno dello stadio che significa il fatto che non vanno a scatenare troppi casini fuori quando invece questi casini vengono fuori perché litigano tra di loro comunque sono criminali che commettono quando il tasso di sopportabilità per le forze dell'ordine diciamo non è più tale allora allora iniziano 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 i problemi per loro perché poi questi sono criminali ma sono criminali che commettono errori naturalmente essendo criminali commettono errori nella loro criminalità litigano tra di loro si spartiscono il bottino quello accoltella questo quella accoltella quando la sopportabilità per le forze dell'ordine per l'investigatore arriva a un livello di insopportabilità allora lì poi iniziano le inchieste serie le intercettazioni eccetera eccetera però questo fa parte diciamo di quello che sappiamo noi la questione dell'Inter ragazzi qui mi pare evidente l'Inter lo dicono i magistrati secondo me è vero non è che prendo per oro colato quello che dicono ma è sotto gli occhi di tutti che magari rispetto ad altre società che hanno provveduto prima hanno uno schermo migliore il Milan per esempio alcune persone sono inaccessibili al Milan perché stanno in America cioè lì è tutto ci sono delle persone con cui questi qua hanno rapporti da tanti anni è evidente è evidente che che c'è c'è una complicità c'è una complicità da quel punto di vista c'è Inzaghi che viene chiamato da questo mi dicono che sia un'eredità del suo essere allenatore della Lazio cioè perché questo tifoso dell'Inter è il numero di Inzaghi per me è inconcepibile che un capo ultra abbia il numero di Inzaghi e in qualche modo gli rimproveri il fatto che la società non gli dà i biglietti quanti vorrebbero loro per la finale di Coppa Italia poi Inzaghi si incazza con la società e fa in modo perché è preoccupato dal fatto che non ci sia il tifo e dunque si fa l'atore di un messaggio degli ultra siamo nel campo cioè di andare contro le norme cioè Giuseppe Inzaghi dice alla società voi dovete andare contro le norme e dare più biglietti che consentito perché io voglio il tifo allo stadio questo è sì ma questo basta saperlo basta dire le parole no 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 questa roba sì io non so nemmeno se Inzaghi sappia che va contro le norme cioè probabilmente non lo sa che sta andando contro le norme perché come dice Cataldo è assolutamente consuetudine è diventata consuetudine il fatto di norme sportive stia parlando naturalmente Massimo tu immagini certo io parlo solo dello sportivo il penale ma dal punto di vista sportivo è evidente che questi qua cioè questi qua avevano un canale diretto per comprare i biglietti a un certo prezzo e fare i soldi anche sui biglietti soprattutto in maniera ordinaria durante le partite per avere innanzitutto un canale privilegiato di abbonamenti dati a pagamento non gratis a pagamento un canale privilegiato in cui si assicurano si assicurano un numero di abbonamenti tutti per loro gestiti da loro certo con nomi e cognomi ma gestiti da loro il che già è diciamo è una follia però non so quanto sia un tradimento delle norme perché tu dici mi chiedono mi chiedono 100 abbonamenti li pagano chi se ne frega cioè non cioè non so se sia un un cioè chi se ne frega ma ricordiamo che per Andrea Agnelli sono stati chiesti 30 mesi due anni e mezzo io non dico lo ricordo solo perché per me è inconcepibile Massimo cioè per me per me è inconcepibile che l'Inter abbia a che fare a livello di allenatore a livello di vicepresidente a livello di responsabile della sicurezza e dei biglietti con un tizio che evidentemente ha un curriculum criminale già evidente alla polizia questo è il punto allora qui il punto cioè non è cioè per cui chi dice di non sapere è perché non voleva vedere all'interno sottolineano anche scusami Giuseppe lo dico anche perché a tal do dopo ora voglio sentire ovviamente Federico e Nicole è chiaro però ti dicono anche la sorella di una di questi campi oltra è una dipendente proprio nell'area anche qui è dipendente d'accordo è dipendente ma non è che è una pregiudicata adesso io non so questa qua no no d'accordo con te sul garantismo però ecco dire in generale non sapevamo nulla non sapevamo chi fosse non sapevamo niente allora a noi c'è una massa cioè ora scusi questo perdico qua che è noto alle cronache ha fatto interviste dappertutto eccetera andiamo a vedere andiamo a vedere magari incensurato io non lo so cioè magari incensurato non ho idea però certo è conosciuto come essere però da spato era da spato ma comunque io non voglio andare sui singoli non è questo che mi interessa ma questo qua è da spato ma questi qua ormai controllano le cose con gente che non è da spato dentro lo stadio cioè questi hanno da spato ma da fuori controllano paradossalmente meglio perché trovano sempre manovalanza gente che per loro conto gestisce le cose all'interno all'interno dello stadio questo è il punto ma ragazzi ma le prove erano sotto gli occhi di tutti le minacce a chi non si è adeguava ti ricordo in curva nord a livello di cori o a livello di o a livello di quello che dovevano fare o dove non dovevano fare questi dicono delle cose esplicitamente ci sono delle immagini che girano di questo perdico davanti a tutti prima della finale di Coppa Italia in cui arringa una folla enorme con gente che non sa manco di che si sta parlando e che pensa che questo sia il capofila dei tifosi invece è il capo di una banda di gente che fa affari oltre che essere tifosi ma soprattutto fanno affari nonostante il fatto che abbiamo seguito la squadra per 15 anni anche quando faceva schifo non ci vogliono dare i biglietti che non vuol dire cioè capisci e arringa la folla per poi per poi sapere che invece c'era stata la risoluzione del problema grazie a grazie all'intervento forse forse non lo so forse dell'allenatore per cui siamo in presenza di una situazione che non solo sotto gli occhi di tutti ma se uno dice noi siamo parte 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 l'ESA cioè a me ha stupito con tutto il rispetto che ho nei confronti del procuratore Viola io lascio perdere la storia del telefonino ne parleremo ne parleremo ne parleremo voglio dire è chiaro che poi a parte invertite sarebbe stato un massacro no? cioè a parte invertite oggi a parte invertite la Juventus sarebbe stata sarebbe stata avrebbero chiesto la retrocessione diciamo la verità se oggi la Juventus fosse stata nella stessa situazione dell'Inter di oggi avrebbero chiesto con un allenatore tu immagina Allegri che parla con un capultrà al telefono cioè che dicendo la polizia vi monitora il vice di Agnelli il vice di Agnelli il vice di Agnelli che dice qual è la roba del vice di Agnelli il vice di Agnelli che dice Nedved no Nedved è quello che dice che la polizia monitora sarebbe che Allegri dice io chiederò più biglietti per voi alla finale Nedved dice a un ex giocatore dice avrebbero invocato la retrocessione in serie B con i punti di penalizzazione e tutto noi che siamo diversi da questi qua dicono semplicemente che tutti sapevano tutto che tutti sapevano tutto e chi dice di non sapere è peggio ancora cioè l'altra cosa del procuratore Viola il procuratore Viola è tifoso dell'Inter ha fatto un'intervista in cui dice che è spiegato dell'Inter che lui non ci vede più quando guarda le partite va benissimo non ce ne frega niente certamente non ha impedito ai suoi procuratori di avviare l'indagine perché non è che ha ostacolato l'indagine dunque non mi pare che ci sia un problema da questo punto di vista certo il fatto che durante la conferenza stampa lasciamo perdere la storia del telefonino esposto perché manco ci ha fatto caso e giustamente uno rivendica la fede calcistica che ha ma dica subito dal punto di vista penale immagino che le società sono vittime io non l'avrei detto ma io sono io cioè le società sono vittime tu sai Giuseppe tu sai Giuseppe che a Milano c'è per l'Inter una fortunata congiunzione astrale perché tifosi spiegatati dell'Inter sono non solo il procuratore Viola ma anche il presidente del tribunale penale di Milano il dottor Fabio Roia che può darsi che verrà una sezione del tribunale penale a pronunciarsi su queste cose sono confessi tifosi spiegatati dell'Inter Nazionale il che non è sufficientemente sufficiente a pensare ovviamente né noi lo pensiamo che possa influire il tifo sul modo con cui si guarda a un'indagine a un'indagine penale sebbene il calcio sia cosa di sentimenti e di passioni che non sempre aiutano a ragionare freddamente il dubbio il dubbio può venire quando si dà per scontato si dà per scontato cosa che per la Juventus non è mai stato fatto che si dà per scontato che l'Inter sia parte lesa sia vittima di questa vicenda dal punto di vista sportivo mi pare quantomeno certamente non è bello essere minacciati dunque noi non siamo nei panni né di dirigenti né di calciatori che quando osano dire qualcosa di diverso ricordate il caso di Icardi il caso di Icardi o di altri casi ancora in cui quando mettono in discussione la supremazia della curva o degli esponenti della curva vengono minacciati sotto casa ti roviniamo le famiglie non è bello però ragazzi non c'è nessuno che denuncia cioè qui ha denunciato Agnelli una volta ma non c'è nessuno che va in procura a dire questi qua ci taglieggiano sui biglietti che è un taglieggiamene a me non mi pare che ci siano denunce presentate da dirigenti dell'Inter no non ce ne sono l'ha detto anche in procura allora un attimo l'ha detto anche in procura nella conferenza in questura c'è stata anche una grande risata quando giustamente una giornalista ha detto ma nessuno ha mai detto niente se ne ha dato nulla allora infatti io direi così parola a Federico parola a Nicole e poi ho diverse domande per Cataldo e Giuseppe lo voglio ancora che però il titolo me l'hai già dato Giuseppe me l'hai già dati vari i titoli che ho detto e beh già quello molto facile la Juve sarebbe già avrebbero già chiesto la retrocessione ma vari altri me l'hai dato guarda allora io direi non fare la vittima sei sempre solito vede scegli tu scegli tu cosa da completare vi sentite accerchiati continuamente vai dici dici la tua non voglio ripeterli ma Giuseppe ha fatto una disamina della questione perfetta cioè riassumo due sono i nostri punti di partenza almeno miei credo anche Giuseppe credo anche spero di di molti di voi uno nessun tipo di moralismo cioè voglio dire ragazzi tutti tutti che hanno frequentato un po' lo stadio tutti che frequentano questo mondo tutte le persone posso precisare una cosa posso precisare una cosa guarda io no perché sennò sembra che io dico siccome tutti sapevano tutto era meglio che era meglio che andassi avanti così io forse Cataldo lo sa io sono per lo scioglimento dei gruppi organizzati per associazione a delinquere secondo me si poteva sempre fare si è sempre potuto fare nessuno l'ha mai fatto chissà per quale motivo cioè i gruppi organizzati spesso sono spesso e volentieri ormai quasi 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 sempre sono delle vere e proprie associazioni a delinquere come è dimostrato ampiamente da questa indagine ma come c'è anche in altri casi che possono essere sciolte possono essere a mio parere sciolte poi non mi addentro nelle cose giuridiche possono essere facilmente sciolte ma nessuno l'ha fatto io in mano militari deciderei anche a scapito di non avere coreografie per due tre quattro anni di sostituire le scuole con le curve io lo dico da sempre cioè sciogliere questa cosa assurda finché la situazione è questa del dominio territoriale di gruppi di delinquenti perché di questo si tratta dominio territoriale di gruppi di delinquenti su un pezzo di stato e sostituirlo mano militari con altre persone io credo che secondo me con una grande operazione di volontà si possa fare però poi adesso vi lascio scusami Federico no 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 vai 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 Federico fai bene aggiungere aggiungo su questo che insomma qualcuno a Torino ci ha provato e ne sta pagando anche le conseguenze in termini di sostegno e di ambiente allo stadio sono 5-6 anni che la Juve non possono entrare in strisconi torniamo alla questione che a Torino scusate torna la Juventus essendo Juventus non solo c'è stato qualcuno che ha denunciato c'è la Juventus ma c'è anche stato qualcuno che ha deciso ok noi cerchiamo di rompere questo meccanismo tra l'altro non così appoggiati dall'esterno da nessuno da nessuno compreso da chi appunto da sempre ha deciso che questi fenomeni è meglio contenerli lasciandoli fare come giustamente faceva notare prima sia l'avvocato che Giuseppe però ecco comunque al di là di questo nessun moralismo se uno frequenta gli stadi se uno aggiungo conosce un po' le dinamiche della città di Milano sa cosa sono le curve dell'Inter del Milan sa quanto sono insomma come si muovono e a che scopi si muovono e cosa rappresentano su diversi terreni quindi non è che ieri abbiamo scoperto una cosa che non si sapeva non possono neanche far finta in Milano all'Inter chiunque gli ha detto ai lavori di non sapere cosa succede queste questionenze che sono chiarissime da anni a tutti si è scelto di conviverci per quieto vivere per convenienze reciproche ripeto non di denaro ma di riuscire ad andare avanti tutti però torno a quello che secondo me è il tema principale l'ho messa a denuncia ma io credo e qua faccio un discorso se vuoi più mediatico Massimo le cose che diciamo noi mi tolgo dal terreno dal terreno più tecnico e giuridico a maggior ragione se tu hai deciso di non essere solo una società di calcio ma hai deciso di ergerti a paladino dei giusti e dei valori e dei valori e tu sei quello cioè il problema il problema non è essere tifoso dell'Inter il problema è che tu sei convinto essendo tifoso dell'Inter non solo di essere tifoso di una squadra di calcio ma di difendere determinati valori cioè questi l'anno scorso volevano incontrare Quadrado poi adesso abbiamo capito chi voleva incontrarlo per fargli capire quali sono i valori dell'Inter rispetto a quelli della Juve cioè la follia del tutto è che tu non mi puoi dire io sapevo queste cose ma le ho denunciate sono parte l'ESA e va bene va tutto bene ma dall'altro lato non mi puoi fare amico mio e qua amico mio è il tifoso interista collettivo a ogni cosa che succede tu sei dalla parte del giusto perché non lo sei quindi siccome il fatto il fatto vero poi non è che uno ce l'ha particolarmente con l'Inter rispetto ad altre società e perché in questo momento stiamo parlando più di Inter che di Milan ci avete spiegato le differenze prima ma anche perché io non mi ricordo non mi ricordo un tifoso del Milan comunque abbiamo avuto una discussione sì sul fuorigioco il gol dentro il gol fuori stai dai ladri non lo siete le solite cose ma nessuno si è mai posto a me come difensore paladino dei valori la fratellanza l'internazionalità la squadra dei giusti versus gli sbagliati il tema vero che rende ridicola tutta la situazione per me è questo dal punto di vista diciamo mediatico e del racconto culturale che si fa attorno al calcio cioè spero che prima o poi ci si renda tutti conto che non c'è una squadra che da parte del giusto e gli altri no soprattutto non c'è una squadra che da parte dello sbagliato e le altre no no ma sai qual è la cosa assurda scusa poi la sua parola Nicola la cosa assurda è anche un'altra chi va allo stadio regolarmente diciamo io Massimo e chi guarda le partite e chi sa cosa succede nelle dinamiche all'interno di uno stadio trova che il 90% delle persone adesso al di là degli scalmanati che ci sono anche in tribuna per carità quello andrebbe eliminato anche quello però è un altro discorso il 90% delle persone pensano che davvero che questi qua vadano tra virgolette eliminati giuridicamente cioè il 90% delle persone che vanno allo stadio questi qua non li sopportano cioè magari si esultano per il tifo dice che bella la coreografia che bella questa roba qua va bene però poi il tipo di dominio che hanno sullo stadio anche fuori dallo stadio gli atti di violenza non c'è nessuno che li sopporta e lo dicono tutti dal primo all'ultimo dalle persone dei vertici istituzionali dopo di che c'è una specie di impotenza mista a paura mista a incapacità ma anche secondo me indifferenza nel superficialità nell'affrontare questa cosa qua e io mi rivolgo anche al governo che è così deciso ad affrontare emergenze come possono essere l'occupazione delle strade o l'occupazione delle case che va benissimo in questo decreto sicurezza che hanno fatto mentre abbiamo lo sport nazionale infestato da bande di criminali su cui secondo me un intervento legislativo adesso non so quale ma andrebbe fatto o le leggi ci sono già io non lo so ma comunque certamente certamente è un problema il problema qual è gli investigatori che non si fanno le indagini per paura siamo sempre alle solide le società non collaborano mi sembra che ogni tanto collaborino adesso lascio perdere il caso dell'Inter eccetera che magari ha sottovalutato il problema o lo ha lasciato andare perché ragazzi le immagini dell'invasione di campo del Milan del Milan dello Scudetto sono anche quelle la fotografia del dominio di certa gente che a un certo punto hanno sbarazzato il campo a colpi di botte i capi degli ultra che dominavano poi i rapporti non so quali erano Giuseppe ma un ministro si faceva le foto c'è un ministro che si faceva le foto abbracciato c'è gente che va alla festa c'è gente che io conosco non posso fare il nome gente rispettabilissima che va alla festa della curva sud del Milan cioè c'è gente rispettabilissima che io conosco che va alla festa della curva sud del Milan ora va benissimo fare la festa della curva sud fare la festa della curva nord fare la festa del virage come si dice in francese virage del Marsiglia o quel cazzo che ti pare della tribuna est colorata gialla verde uno può fare tutte le feste che vuole però è talmente evidente e lo sanno tutti anche quelli che partecipano che queste feste qui sono frequentate da delinquenti da delinquenti teppisti pregiudicati soprattutto quando sono fuori dallo stadio dove si radunano pure quelli che c'hanno pregiudicati eccetera che gente per bene che partecipa a queste feste intonando i cori insieme ai delinquenti oppure è così è una roba che ha a che fare con non lo so secondo me con una superficialità spesso con la paura che magari ti ricevi una telefonata in cui ti minacciano tua figlia però queste cose si rompono queste cose si devono rompere queste cose qua e chi le può rompere le può rompere solo il carcere la magistratura quando ci sono i reati e spero che ci siano i reati l'associazione a delinquere cose di questo tipo si devono rompere questi legami qua perché altrimenti se non si riescono a rompere siamo nella società della barbarie questo è il punto oggi siamo nella barbarie questo è il barbarie un vicepresidente gente che ha rapporti telefonici con pregiudicati ragazzi ma in altri ambiti Cataldo lo sai in altri ambiti a un imprenditore basta una telefonata sbagliata per finire sotto accuse per concorsi in associazione mafiosa a un imprenditore basta una telefonata o un appoggio Cataldo lo sa o una cosa magari inesistente per finire sotto accusa qui siamo là in campo e un dirigente chiama uno si sente al telefono o viene chiamato spero a uno e dire la polizia vi monitora cioè se un imprenditore tramite materazzi se un imprenditore avesse fatto se un imprenditore avesse fatto questa roba qui a uno a uno a uno in odore di così cosa sarebbe successo Cataldo se un imprenditore avesse fatto una telefonata oppure avesse stato intercettato in una telefonata in cui dice a un mafioso non è questo il caso ma siamo lì vicino a un mafioso la polizia vi monitora cosa sarebbe successo Cataldo aspetta aspetta ora lo tengo là Cataldo che ne abbiamo un po' teniti anche questa Federico leggo chiudere Nicol tutto giustissimo interessante ripeto secondo me dal punto di vista del racconto mediatico e culturale attorno a questo il problema vero è quello che se tu ti ergi a paladino sei la squadra dei giusti e soprattutto noi siamo la squadra degli sbagliati poi ogni volta che succedono queste cose qui raccontano regge quindi io odio le intercettazioni l'utilizzo che ne hai fatto le incertazioni sono estremamente garantista sono estremamente non moralista anche sui rapporti che uno può avere con persone che non fanno delle cose giuste non mi ne frega niente tutto ciò sa di fatto che se tu tutti i giorni fai la lezioncina al paese e poi quando ci sono queste cose sono due pesi due misure dall'altro lato hai una società anche il distingo che fanno molti giustamente interisti in questione fra il tifoso interista per bene e quello della curva ok allora questa roba vale per tutti non è che c'è un branco di criminari andranghettisti che ti farò la Juve ma questo ragazzi che ci sia una distinzione tra che ci sia una distinzione secondo me è perfetto Federico in questo secondo me vale la pena Giuseppe hai ragione a noi c'è stufa questo scopo vale la pena ribadirlo poi c'è il discorso dell'ho messa denuncia che secondo me andrà un po' capito e poi c'è il discorso che io trovo meraviglioso e la butto sul rider assunto sull'ironico però so cosa fare della giustizia sportiva adesso vedremo che succederà la procura federale a gettare H sul fuoco a dire dobbiamo valutare dobbiamo capire gravina che dice ci vuole cautela mentre all'altro lato in un quarto d'ora tu hai fatto richieste di sentenze penalizzazioni di punti bollato mediaticamente le persone deciso cercato di irradiarlo squalificare dal calcio tutto molto in fretta perché invece lo sport ha bisogno di fretta e di decisioni se tu racconti tutto questo ogni volta che succede qualcosa alla Juventus o fai in modo che succeda e dici i nostri ritmi non possono essere quelli della giustizia ordinare o del penale di tutto abbiamo bisogno di chiarezza e poi succede una cosa così dove hai l'allenatore il vicepresidente che parlano con questi e l'unica cosa che tu ti senti di dover dichiarare è cautela attenzione parte l'ESA aiutiamo le società attenzione a buttare tutti nel calderone che è il mio atteggiamento nei confronti di queste cose qua delle indagini delle inchieste allora giustamente il tifoso Juventino dice no aspetta un attimo come cautela cioè cautela in che senso no no perfetto io questo discorso che tu hai fatto i due temi i due temi veri sono questi cioè smettiamo di raccontare come il mondo in buoni e cattivi perché non lo è non lo è neanche il calcio non facciamo i moralisti su questa cosa delle curve perché come dice Giuseppe lo sanno tutti le misure sono le va a prendere le prendeva anni fa e sono sempre le stesse perché lo sappiamo tutti e terza cosa giustizia sportiva allora decidiamoci abbiamo bisogno di chiarezza o abbiamo bisogno di cautela perché insomma non è che un anno uno un anno o un altro a seconda di chi però ineccepibile ogni parola di Federico dico io questo discorso che ha fatto molto bene Federico l'ho fatto un po' più rozzo l'altro giorno dicendo non siamo scemi cioè siamo garantisti ma scemi no non è che un anno ci ha detto una cosa non poteva non sapere ho messo a denuncia ma è gravissimo voi non avete trovato le contromisure e tre anni e sette anni dopo beh ragazzi capita a tutti cerchiamo di capirlo lottiamo tutti insieme wow non è così una parola non una parola quello che vuole a Nicole domande e osservazioni e poi riparto a Cataldo un giro finale di tutti cospico quanto vuole allora Giuseppe se vuoi chiudere ascolto Nicole sentiamo Nicole allora poi Giuseppe ancora e poi con Cataldo e Federico andiamo a essere arriviamo in blano poi parliamo di l'Italia sono breve mi raggancio un po' al discorso mediatico che faceva Federico cioè io ricordo che a Danielli furono chiesti due anni e mezzo di inibizione per degli articoli che regolano proprio cioè che vietano i rapporti dei tesserati con i tifosi l'articolo 25 dice ve lo leggo Nicole scusa ti interrompo lo leggo da figc.it codice di giustizia sportiva lo leggo da là non so se ci sono aggiornamenti o meno ma lo leggo da lì ai tesserati è fatto di vieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società e aggiungiamo e questo lo chiederò a Cataldo tra poco che c'è quel maxi articolo 4 poi quel maxi articolo 4 va dai chiudi pure Nicole per la Juve fu anche invocato questo articolo sulla probità correttezza quindi insomma questo articolo sappiamo che è generico quindi viene invocato in alcuni casi in altri no vedremo in questo caso ripeto però ecco a me fa specie che adesso si chiede comprensione verso le società oltre che prudenza che è sempre sacrosanta e vorremmo tutti che fosse applicata in tutti i casi però ecco comprensione verso le società che sono vittime di certe frange deviate del tifo allora si facevano i titoloni in cui Agnelli veniva accostato all'andrangheta quindi ci può anche un'intercettazione mezza inventata comunque attribuita male diciamo così il presidente andò in commissione antimafia quindi a me appare proprio la discrepanza appare evidentissima è questo che va un po' a arrabbiare ecco esatto questo è il mondo il popolo juventino quello che dicono Federico sul moralismo e la superiorità morale dei Severnini degli interisti e compagnia e poi ogni volta scopriamo che le telefonate ce l'avevano loro che le prevalenze facevano loro che quell'altro facevano loro e ogni volta i toni sono diversi ci siamo rotti le scatole questo è io dico siccome Giuseppe deve andare Cataldo ti chiedo Giuseppe ti ha fatto una domanda no sì rispondo subito rispondo subito a Giuseppe guarda Giuseppe se fosse provata che la circostanza di Zanetti fosse vera noi ci troveremmo di fronte a me non piace stare a ballare ipotesi di reato sulla pelle degli altri non il mio sport però se fosse dimostrata la verità di quella circostanza forse dico forse si potrebbero avvisare anche norme penali norme penali perché avvisare di una notizia riservata una persona che si sa sottoposta ad indagine per favorirla potrebbe essere un'ipotesi potrebbe essere un'ipotesi insensolato di favoreggiamento là il punto è un altro Giuseppe che questa circostanza è riferita da una terza persona che si potrebbe vantare sai mi ha detto Giuseppe Cruciaglio e magari non è vero ecco questo sarebbe il vero stacco questo era il penale nello sportivo devi dimostrarlo te ti dicevano ti ricorderai Cataldo quante volte ci hanno detto quante volte ci hanno detto nella nostra vita sei tu che devi dimostrare è l'onere della prova invertito nello sportivo barbarie di diversi ordinamenti però io pongo l'accento su di una cosa ragazzi perché allora il processo penale le ipotesi di reato richiedono un'indagine penale un processo che ha i suoi tempi le sue lunghezze le sue garanzie giustamente però qui il punto qualificante qual è? è il procedimento di prevenzione che è applicato per la prima che si può applicare per la prima volta delle società sportive però quella è un'ipotesi mi sembra molto residuale dai no ebbè no guarda che è stato fatto con aziende che si chiamano Amazon con esse lunga cioè si è imposta a queste aziende che stavano violando normative sul lavoro di adottare determinati contratti nei confronti dei propri dipendenti così come può e io mi auguro e auspico che i vertici giudiziari di Milano ancora più che sono visto che sono anche convinti i tifosi interi vogliono imporre alla società all'Inter come anche al Niva di recidere contatti di non ammettere allo stadio queste associazioni di ultra di cui si presuppone la contaminazione criminale che vietino alla società cessioni di biglietti e favoritini di vari lo possono fare e già sarebbe un primo passo concreto perché è facile dire in galera in galera Giuseppe si in galera in galera poi tu sai quali sono le lungaggini i problemi le difficoltà il procedimento di prevenzione a questo di buono c'è un'inversione dell'onere della prova ma siccome in funzione di prevenire la commissione di crisi può intanto imporre alle società l'adozione di misure e stromettere questi gruppi dallo Stato vietare alla società di vendere biglietti questo già sarebbe qualcosa perché tu così ti fai mancare l'acqua dove questi pesci nuotano l'acqua torbida e li strangoli si diciamo Cataldo già credo che sia vietato la vendita di biglietti diciamo la vendita di biglietti a persone pregiudicate o persone il problema è che questi riescono questa cosa qui ad aggirarla perché poi il business è anche nei biglietti in occasione della finale di Champions della finale di Coppitalo e che quelli mettono in ricarico e qui andiamo alla questione del tifoso che viene sostanzialmente quasi truffato dagli stessi ultra il tifoso che vuole andare in curva a fare il tifo viene truffato perché deve pagare un sovrappiù rispetto che è il pizzo che prendono questi qua rispetto al prezzo di costo del biglietto ma la cosa incredibile è questo qua secondo me sui biglietti già ci sono le norme che impediscono la vendita poi magari vengono aggirate la vendita a questo questi qua fanno i soldi fuori fanno i soldi con altre cose su cui la società è impotente chiaramente perché se questi gestiscono i parcheggi non so quanto la società possa intervenire lì è una questione oggettivamente di indagine non lo so la società non credo e lì c'è il problema della proprietà dello stadio questo sì perché vedi che gli stati di proprietà cosa servono gli stati di proprietà servono al fatto che la società è come se la Juventus oggi i parcheggi della Juventus fossero gestiti da associazioni criminali non può accadere perché la colpa ricadrebbe direttamente sulla Juventus io prima però ho parlato della questione di Zanetti sì volevo specificare giustamente qualcuno la telefonata diciamo la presunta telefonata di Zanetti è riportata è riportata dallo stesso Ultra questo ferdico che dice ci sono dei funzionari di polizia che stanno monitorando la curva e parlando con Materazzi altro capitolo che bisognerebbe aprire parlando con Materazzi aprilo 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 e nessuno parla di niente ragazzi parla insomma che bisogna aprire Materazzi Materazzi che anche lì va in curva conosce tutti personalmente non sa che sono pregiudicati questi qua non so che non sa che sono implicati con traffici pazzeschi se non lo sa è un coglione e siccome non penso che sia un coglione e questa informazione l'avrebbe saputa da Zanetti dunque ci sono collegamenti diretti tra Zanetti vicepresidente dell'Inter e questo ferdico che è diciamo considerato questa è la cosa non ci piace a noi stare là a spulciare le intercettazioni a capire è una cosa terribile però ci costringono in questo caso quasi ci violentano nel voler entrare nel merito di questa cosa c'era un contatto diretto tra Zanetti e questo ferdico perché se c'è un contatto diretto tra il vicepresidente dell'Inter che sostanzialmente è fino a poco tempo fa con la proprietà straniera quando Marotta non era presidente era quello che rappresentava la proprietà era quello che rappresentava la proprietà prima del fatto che Marotta diventasse presidente c'è un contatto diretto di telefonini tra Zanetti e questo ferdico Zanetti io lo conosco come una persona oggettivamente una bravissima persona una persona interista tutto ad un pezzo ma certamente una persona una persona per bene e magari per paura aveva contatti con questo oppure era riferimento in società chi era riferimento in società di gente che erano ma basta consultare non solo google ma anche qualsiasi qualsiasi no cioè qualsiasi avvocato però ci sta una persona in te genere e tutte per carità non siamo qui però anche questo fa parte di quel racconto di cui ti dicevo prima no ma che ci sia un racconto che è meglio che è abbandito quando intervistano il vicino dell'omicida che dice ah mi sembrava una brava persona no vabbè secondo me dobbiamo un po' uscire dal racconto che è appunto ripeto che ci sono i giusti e i buoni nel calcio e ci sono i cattivi e gli sbagliati punto e basta allora però siccome scusami 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 però io non gli sto dicendo che Zanetti è buono per definizione sai figurati che il racconto sia Zanetti è buono per definizione Nedved invece è cattivo la Juventus è definita l'ignotta questo lo sappiamo allora il problema fondamentale è solo uno siccome sono le parole di un capo ultra Zanetti viene messo in mezzo perché ci sono le parole di un capo ultra il quale per definizione in quello che dice non è credibile cioè per definizione non è credibile io non credo in una parola di quello che dicono questi sono mentitori professionisti delinquenti gente che usa la violenza gente che non ha altro metodo se non quello della violenza nei rapporti umani anche se dice a Materazzi anche se dice a Materazzi ho parlato con Zanetti che mi ha detto che la polizia lo sta monitorando sinceramente prendo questa cosa con le pinze poi tutti i giornali oggi questa è un'operazione che è stata fatta con la Juventus la stessa operazione che è stata fatta tutti i giornali oggi dicono fanno passare Zanetti come una specie di collaboratore degli ultra io sarei se fosse vero fosse vero sarebbe gravissimo diciamoci la verità se fosse vero quello che oggi viene io vedo oggi il messaggero ma posso prendere altri giorni oggi ho letto un messaggero perché c'è un'intervista meravigliosa di Rotito sui rapporti con gli ultra però in prima pagina Zanetti la polizia li sta monitorando oggi Zanetti passa come un informatore degli ultra diciamoci la verità cioè Cataldo oggi nel racconto popolare che è quello che la Juventus ha subito per anni però nel racconto popolare Zanetti passa come un informatore degli ultra poi vai a vedere bene che sarebbe gravissimo ripeto con risvolti forse anche penali come diceva prima Cataldo però se vai a vedere le cose è la telefonata di due signori che si chiamano uno perdico criminale quello che vogliamo e l'altro Materazzi che è uno che è fuori dal calcio e che infatti l'ultra dell'Inter per divertimento oltre che altre sue attività tra due ultra uno criminale e l'altro ex giocatore non li voglio mettere sullo stesso piano perché se no non l'ha assolutamente fatto questo errore e non possiamo fare così perché non ne sappiamo niente infatti il problema non è Zanetti per me il problema sono anni di racconto su Zanetti sull'Inter perché non sono usciti dal 2005 a oggi 755 editoriali video e cartacee in cui ci raccontavano la faccia pulita del calcio che oggi io mi aspetterei mi aspetterei siccome gente che ha sempre io ho visti tantissimi su Netflix che è un simulatore per esempio l'ho visto i vari Severnini i vari Severnini e compagnia cantante tifosissimi dell'Inter oggi siccome loro sono i moralisti per definizione la Juve cattiva oggi stanno guardando Luna Rossa ci sono Luna Rossa e Sinner oggi quindi non distruggere no ma allora la cosa sarebbe sarebbe questa sarebbe questa io voglio dal mio vicepresidente dal mio vicepresidente pretendo chiarezza perché così dicevano ai tifosi della Juve ricordate no cosa dicevano ai tifosi della Juve ai tifosi della Juve dicevano sono gli stessi tifosi che dovrebbero pretendere chiarezza dei loro dirigenti perché chissà cosa hanno fatto eccetera allora la questione sarebbe i vari Severnini dovrebbero dire io voglio chiarezza dal mio vicepresidente che è immacolato Zanetti con la sua capigliatura meravigliosa ogni volta impeccabile aveva io non lo farei perché io quell'intercettazione per me è merda capito per me quell'intercettazione lì fa parte di un fascicolo dove sono altre però io fossi un tifoso dell'Inter bonista di questi qua capito che ha lo scudetto di cartone messo là e lo rivendica come lo scudetto dei moralisti lo scudetto dei buoni dei giusti direi cazzo il mio vicepresidente che parla al telefono che parla al telefono che forse ha parlato al telefono con il capo ma cazzo voglio sapere se è vero perché altrimenti la mia la mia anima bella la mia anima bella è sporcata e invece cosa ti dicono loro oggi che purtroppo anche loro stavano per essere contaminati da una piccola parte macchia di una tifoseria no dicono che sono vittime dicono che sono vittime dei gattivi perché noi non stiamo qua a parlare del Milan che ormai voglio dire personalmente perché su Milan sono uscite ma quale seconda squadra ma quale seconda squadra smesso perché su Milan sono uscite perché su Milan sono uscite meno cose perché su Milan per adesso sì ma anche perché non è stato impostato in questo paese un racconto è uscita quella cosa molto divertente è uscita quella cosa molto divertente di Lucci che parla al telefono non mi ricordo con chi e che dice noi stiamo facendo pressioni sulla società per avere Conte invece di avere cose questa dottorata meravigliosa De Zerbi Conte De Zerbi questo va a merito dei dirigenti che hanno voluto con sé comunque è vero non hanno ascoltato negli unici a certo punto c'è questo scontro tra il barone che è un signore che adesso fa altre cose il barone vecchio ultramilanista conosciuto da tutti il barone che dice io sono per De Zerbi poi non si capisce perché questo è per De Zerbi ma probabilmente perché gli piace De Zerbi e questo Lucci che dice no ma tu che cazzo fai stai sponsorizzando De Zerbi e invece noi stiamo facendo pressioni per avere Conte ora chissà come fanno queste pressioni probabilmente con delle telefonate non so a chi quali sono i canali ma anche questo è interessante quali sono i canali di comunicazione e con chi parlano questi qua è una materia di giustizia sportiva secondo me dovrebbe esserlo negli Stati Uniti nel mondo tanto attaccato per tutto business ma meglio business dei criminali che fanno ugualmente business perché dici il calcio tradizionale delle curve ma il calcio tradizionale è business criminale altro che calcio tradizionale in America dove è tutto normato e l'unica cosa importante è il business l'unica cosa che conta è il business ma quello vero reale mica dei banditi almeno non so la società no? no ma assolutamente se tu parli se tu parli con un tesserato se tu parli se tu parli e sbagli a parlare e si scopre che tu sbagli a parlare ti squalificano per anni e ti cacciano cioè questo ti cacciano oggi in Italia è tutto così io parlo con tutti io parlo col Capultram mi metto d'accordo e quello e me danno 500 biglietti e me danno 100 e 200 se no te vengo con l'Ale e te spacco tutto se no facciamo un macello ma ragazzi ma di che parliamo? va bene ragazzi Giuseppe Guciani allora salutiamo Giuseppe salutiamo Giuseppe grazie Giuseppe che dice Cataldo infatti tu sai che i Fredkin a Roma che sono odiatissimi si sono dall'inizio della loro avventura rifiutati sempre di parlare fare dichiarazioni avere rapporti con tifosi beh però devo dirti devo dirti la verità io ho avuto la fortuna è stata una delle mie trovate di questi ultimi primi giorni di trasmissione di intervistare quel tifoso da Roma che è andato sotto Trigoria il famoso hai visto forse tu dove è Lina? dove è Lina? dove è Lina? è stato ospita da me prima al telefono e poi l'ho ospitato a Roma in studio c'è un meraviglioso video su YouTube che è il Sandro il Sandro Sandro l'imprenditore che questo ha un'attività imprenditoriale piccola attività imprenditoriale e io ho detto scusa ma che cazzo fece via ai nove e mezza di mattina di mattina a Trigoria a difendere dei rossi e questo dice la Roma è nostra questa se ne deve andare questa Lina su Lugus se ne deve andare scusa ma che cazzo lei che decida ma che decida a Roma siamo noi ecco il concetto della Roma siamo noi da Lazio siamo noi l'Inter siamo noi e arriviamo al punto della questione che poi questo poveraccio è uno oggettivamente uno un tifoso che non ha interessi diciamo economici questi hanno trasformato invece altri più criminali hanno trasformato questo l'Inter siamo noi in un'attività criminale però questo è il punto spacciandola per tifo questa è la cosa più incredibile e c'è gente ancora che va dietro a queste robe qua questa Lotito viene minacciato da gente che dice la Lazio siamo noi non sei tu che mette i soldi peraltro contestando di scelte mette la Lazio terza, quarta ma lasciamo perdere i risultati i risultati da gente che poi si scopre che ha interesse al fatto di mantenere un potere di essere di essere riconosciuta in quanto cioè questi se vengono riconosciuti come interlocutori come sembra abbia fatto l'Inter e perché se vengono riconosciuti come loro interlocutori anche la polizia dice ma ce parli tu cioè parlano con voi parlano con voi e noi perché dobbiamo dobbiamo romperli il cazzo a questi qua se parlano con voi direttamente e questa è una cosa paradossale si chiede alla polizia di intervenire quando questi qua stanno al telefono con Materazzi forse con Zanetti per carità forse con il responsabile dell'Inter dei cosi cioè millantano contatti con l'allenatore cioè questo chiama l'allenatore cioè è come se Guardiola parlasse col capo degli ultrati e Manchester City pregiudicato tu capisci ci sono chiamate comunque ci sono chiamate comunque dell'allenatore anche con altri ultrati parlando di altri quelle ci sono nell'ordinanza grazie Giuseppe ciao ragazzi grazie mille Giuseppe allora tra poco vi liberiamo arriva a Montblano verso tutti arrivo sì vai Fede stai montando una polemica inutile su un paio di falle organizzative in una macchina perfetta io so perché tu non vuoi parlare di Taremi allora no ma la cosa bella che dico una cosa sui canali sui canali interisti la cosa che trovo pazzesca è che sui canali interisti non solo qui su questa piattaforma ma in generale cioè il tema non esiste cioè loro hanno scelto di rimuoverlo non è che dice una bel dibattito cioè vi ricordate a Juventus quante volte Cataldo è venuto qua a parlare con la Juve di Mezzo a fare i processi a dirci pure quando per lui avevamo colpe noi cioè da noi c'è un maxiprocesso libero su tutto non esiste se guardi loro c'è Taremi Arnautovic nessuno l'hanno rimosso tutto tutti loro i canali influencer tanto tu ce l'hai c'è una linea editoriale no d'altronde comunque ragazzi allora vai io credo credo poi vi devo salutare anch'io anche se anch'io vi devo salutare aspetta Massimo vi saluto molto interessante ciao Federico ciao Federico intanto ciao Federico arrivederci il fenomeno è preoccupante a Roma per esempio si ricorderà la parabola di un capo oltra di Fabrizio Piscitelli che cominciò come tipo di avori è finito poi una fine tragica come esponente come esponente criminale come dire questi sono fenomeni che non vanno che non vanno sottovalutati però io ragazzi devo dire aspettiamo di vedere le decisioni perché secondo me tra giustizia ordinaria appunto il procedimento di prevenzione e la giustizia sportiva dei provvedimenti verranno 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 presi perché la situazione è una situazione clamorosa è una situazione grave ci sono omissioni sportive c'è la situazione di una società che seppure non si può definire una società in mano alla criminalità questo no comunque alcuni esponenti hanno avuto dei comportamenti e delle condotte eticamente criticabili di contatto perché purtroppo e questo è un vecchio discorso fino a quando non si cambia la mentalità fino a quando si pensa vabbè sono contatti con i tifosi sono contatti normali invece il problema è proprio avere l'isolamento cioè cominciare a prendere le distanze questo è avvenuto in Italia è avvenuto con la madre in Italia è avvenuto cambiando i giudizi nei confronti di determinate persone di determinati reati come i reati nei confronti delle donne si è cambiata una mentalità e cambiando una mentalità si è cominciato a prendere un diritto allora la prima cosa è cominciare ad avere consapevolezza della gravità del fenomeno che non è un fenomeno pittoresco di polcolore di tipo ah questo non è tipo no purtroppo c'è un tipo allinea dentro un certo tipo di tipo questo tipo di pericolo da cui bisogna prendere le distanze quindi vediamo un attimo cosa succede perché qualche rimedio può essere preso e vediamo quale sarà il comportamento è la condotta dei vertici degli uffici giudiziari che certamente possono adottare secondo me delle misure che possono servire a isolare l'Inter e il Milan da frange pericolose e criminali che vengono definite impropriamente tifosi ma che sono frange criminali è tutto chiarissimo ti ringraziamo tanto come sempre anche per l'onestà e scusami una cosa sola ti chiedo ha ragione Gratteri a dire io biglietti a De Laurenti se non ne voglio perché un magistrato se li paga è tutto così o ha ragione chi dice ma che problema ci sarebbe pure se Viola e compagnia fossero invitati sopra Marotta qual è la cosa vera e dici il tuo punto di vista secondo me ha ragione caratterica non è una persona che io condivido molto nelle sue prese di posizione però ha ragione ha ragione caratterica perché poi vedete succede che poi tu sia legittimamente tifoso e poi legittimamente nell'ambito del suo lavoro ti debba occupare di fenomeni criminali che toccano anche la squadra del fuoco e ci vai con la cover dell'Inter quindi se tu eviti di andare a festeggiare in tribuna d'onore accanto ai dirigenti o a fare ostentazione di questa forse fai una cosa a mio parere saggia al di là dell'imparzialità che io credo i vertici però evitiamo di ostentare una vicinanza una contiguità che potrebbe diciamo così forse nuocere forse nuocere anche in senso lato al prestigio dei magistrati che è un valore importante io Cataldo di